Abbiamo con noi Elena Lavezzi e Rossella De Angelis. Elena lavora in una nuova multinazionale digitale americana, Rossella in una start-up italiana. Benvenute ad Economy Up. Grazie. Ecco, adesso presentatevi, dite chi siete, che cosa avete studiato, che cosa fate adesso e che cosa fa l'azienda nella quale lavorate? In un tweet, se riuscite. Prego Elena. Io sono Elena Lavezzi, ho 28 anni, ho studiato Economia alla Bocconi, poi ho deciso di partire un anno per gli Stati Uniti dove ho lavorato. Sono tornata in Europa e ho studiato specializzandomi in marketing tra Londra e Parigi e dopo un'ulteriore esperienza in una piccolissima start-up italiana sono approdata in Uber. Uber è l'azienda americana che ha creato l'app con cui si richiede con un solo clic un autista privato che in pochi minuti arriva dall'utente. E che cosa fai in Uber? In Uber mi occupo del marketing, dunque dal giorno 1 di Uber Italia il mio ruolo è quello di creare la user base della nostra azienda. Rossella? Rossella De Angelis, anni 26, studi economici in Bocconi anche per me. Sono approdata in Musement in giugno dell'anno scorso, oggi sono Senior Digital Marketing Specialist e Musement è la piattaforma di aggregazione di esperienze di viaggio online dove è possibile trovare tutto ciò che serve per rendere veramente unico il proprio viaggio, tour, ticket per i musei, visite guidate e così via. Ecco adesso prima di conoscere meglio le vostre storie vediamo insieme che cosa dice il fondatore di Groupon Andrew Mason su che cosa vuol dire davvero lavorare in una start-up e che cosa si impara. That type of experience is invaluable leadership training. It's a daily street fight, going out there and closing these and signing up merchants. I sometimes say at a company like Google or Facebook everybody could go home for six months or so and the service would keep on running At Groupon, people could go home for five days and we'd have to shut down like we'd just have to put up a close sign because that's about how much lead time we have of merchants that are actually scheduled to run on the site So it's intense, it's very operational you learn how to lead people you learn how to work with technologists and it's a great leadership training ground for people who are looking to go on and run something themselves Sei d'accordo con quello che dice Mason, Elena? Beh, sicuramente la caratteristica principale di una startup in una primissima fase è che il team è molto piccolo dunque ciascun elemento, seppur molto giovane magari ha tantissima responsabilità e deve sviluppare delle doti di leadership per forza perché sei su tanti progetti contemporaneamente sei tu che devi decidere Ma è vera la storia delle vacanze? Ma diciamo che ad esempio nel nostro caso non è che ovviamente non potevamo avere malattia o ferie ci mancherebbe altro però è anche vero che alcune cose le potevamo fare solo noi non c'era nessuno a sostituirci e dunque sinceramente non ricordo un momento in cui abbiamo abbandonato l'azienda per una settimana all'inizio anzi la seguivamo come se fosse un bambino giorno e notte, giorno e notte Rossella? Sono d'accordissimo è inevitabile sviluppare delle doti di leadership devi assumere la responsabilità per tutte le tue decisioni avere degli obiettivi verso i quali remare in qualche modo avere così tanta responsabilità ti rende dipendente dal tuo lavoro perché osservi i risultati ed è una cosa estremamente gratificante quindi è una doppia dipendenza la società ha bisogno di te come diceva Elena però sei anche tu ad avere bisogno del tuo lavoro e dei risultati ecco adesso facciamo insieme un flashback è un caso che entrambi abbiate studiato alla Bocconi è un caso che per entrambi quello che fate adesso è stato il vostro primo vero lavoro il vostro primo contratto di assunzione raccontaci come è andato il colloquio di assunzione con gli americani di Uber diciamo che il fatto di lavorare in una start up per me non è casuale nel senso che quando mi sono laureato ho fatto circa 5 stage credo e tra questi c'era uno stage in una grandissima azienda internazionale da subito ho capito che in realtà io volevo lavorare più in un contesto imprenditoriale dunque mi sono avvicinata al mondo delle aziende tech con una piccola italiana che era incubata al Politecnico di Milano nella porta accanto alla nostra un giorno arriva un ragazzo italiano che stava lanciando un'azienda molto simile ad Uber e così ci ha raccontato della sua paura dell'arrivo del colosso americano in Italia io mi sono informata e ho visto che effettivamente stavano cercando una posizione molto simile al mio profilo ho mandato il curriculum e dopo due ore mi hanno richiamata dopo una settimana ero assunta ma hai fatto il colloquio negli Stati Uniti o in Italia? no ho fatto tutti i colloqui su Skype ah tutto su Skype? tutto su Skype e hai subito cominciato dopo una settimana? ho cominciato dopo una settimana a febbraio e dopo un mese e mezzo circa abbiamo aperto il mercato italiano dunque ovviamente ci siamo preparati prima abbiamo avuto un attimo il tempo di capire esattamente cosa dovevamo fare poi siamo partiti stiamo parlando del febbraio 2012 stiamo parlando del febbraio, sì, di due anni e mezzo fa dunque del 2013 febbraio 2013 siamo partiti tre ragazzi dunque io che mi occupavo del marketing uno di tutta la parte degli autisti e poi la general manager che definiva la strategia italiana certo Rossella il tuo colloquio di assunzione? anche nel mio caso la peculiarità principale è stata la rapidità perché io ho fissato la data del mio primo colloquio lo stesso giorno in cui ho inoltrato la mia candidatura e poi si è trattata in realtà di una chiacchierata tranquillissima ho incontrato il CEO e la responsabile marketing e da lì a pochi giorni ero già al lavoro quindi nessuna domanda strana, enigmi, tra bocchetti come mi è capitato in passato una chiacchierata strettamente legata alle mie esperienze precedenti e alle aspirazioni future ecco tu avevi fatto però uno stage in Vodafone e hai deciso di però non proseguire quel percorso di aspettare perché? ho rinunciato alla posizione che mi era stata offerta per diversi motivi non mi convinceva un po' per l'ambiente di lavoro un po' per le mansioni che si prospettavano rutinarie non vedevo grandi prospettive di crescita nel breve periodo nel caso di Musement l'offerta invece mi dava la possibilità concreta di imparare qualcosa qualcosa che ancora non conoscevo di mettere un po' le mani in passa e soprattutto vedevo la possibilità di crescere insieme all'azienda professionalmente ecco, l'ambiente di lavoro diceva Rossella qual è l'ambiente di lavoro in Uber? qual è la cultura del lavoro in Uber? è vero lo stereotipo dello start-up perché appunto dicevamo lavora senza orari, senza limiti? ma allora innanzitutto è un'azienda molto giovane l'età media è 27 anni dunque il clima è sinceramente molto positivo c'è tantissima dinamicità e per forza perché comunque in una start-up bisogna veramente sapersi adattare i cambiamenti di giorno in giorno sono costanti per quanto riguarda diciamo i ritmi beh allora è ovvio che sono impegnativi ma c'è anche molto rispetto dall'altro lato delle esigenze della vita personale di ciascun dipendente sinceramente non vedo non ho mai vissuto nessun fanatismo dentro Uber anzi cioè addirittura cerchiamo profili di persone che abbiano i propri hobby e che sappiano ritagliarsi i propri spazi tutto così rosa e fiori tutto così bello, rossella ma posso confermare la cosa che inizialmente mi aveva un po' sconcertato i amusement le prime settimane era il fatto che non c'era la cultura della pausa quindi non caffè veloci pausa e pranzo indispensabile poche chiacchiere quindi ritmi molto serrati quindi giornata impegnativa però non ho mai visto nessuno fare a gara per chi uscisse per ultimo la sera per cui questo significa tanto ecco vogliamo credere a questa vostra descrizione così tutta positiva però vediamo un attimo insieme questo video per capire come lavorare in una startup non è per tutti vediamo insieme questo video the truth is that startups come with a lot of risk they're hard work and they definitely are not for everyone so before you start picking out the one you want to work for make sure the startup life is right for you and here are a few signs that it may not be if you're looking for a clearly defined job description if you're looking to start your next job with a clear understanding of what your day-to-day responsibilities will be the job you're looking for probably is not at a startup at a new company there's nobody to iron out the kinks before you you'll face new challenges every day as you define your role and the company develops similarly if you're nervous around change you probably won't last daily responsibilities are always changing because new companies are constantly evolving so difficulty with change is a non-starter if you're excited to work at a successful startup rather than excited about the product the percentage of startups that are successful is pretty small most of them fail so if all you're doing is waiting around to cash in you could be waiting a long time how about if you don't thrive on stress all that risk that creates the potential for success also creates a lot of pressure not to screw up so as they say if you can't take the heat stay out of the kitchen if you don't want to be held accountable one of the appeals of a startup is that you can often gain more responsibility in lower level roles and if you create something great you get your name attached to it of course the flip side of that is that if you screw up well that's all yours too if you feel uncomfortable or threatened by strong-minded, opinionated, or passionate people these are the people that tend to start companies so sorry if you have difficulty maintaining a work-life balance startups are known to be a lot of hard work and long hours but good company culture tends to not be built with workaholics to survive this environment for an extended period of time you'll need to be able to find a balance that works for you Che cosa avete imparato in questi anni di lavoro in una startup? Elena? La caratteristica principale penso sia quella di accettare il rischio soprattutto all'inizio noi mai avremmo immaginato che Uber sarebbe diventata quello che è adesso a livello globale e sinceramente saper essere molto sapersi adattare a cambiamenti continui e essere molto flessibili proprio come persona l'attimo prima fai una cosa magari di estrema semplicità l'attimo dopo ti ritrovi a fare un'intervista eccetera eccetera dunque nel senso senza senza rigidirsi ecco ricordiamo che in Italia eravate tre due anni e mezzo fa adesso siete adesso siamo dodici in Italia a livello mondiale eravate cento e adesso siete? eh siamo sui cinquemila cinquemila quasi cinquemila dipendenti che cosa hai imparato tu invece? ma sicuramente competenze professionali multisfaccettate si impara a fare di tutto non si acquisiscono competenze specifiche ma si impara anche a guardarsi intorno a sostenere gli altri team quindi qualcosa che non riguarda strettamente la propria sfera professionale e poi vabbè nel mio caso posso dire con orgoglio di avere un team estremamente internazionale quindi senza falsa retorica imparo qualcosa ogni giorno colleghi che arrivano veramente da ogni parte d'Europa del mondo chiudiamo con il futuro dopo aver lavorato in una start-up fondereste una start-up? è un sogno che mi piacerebbe a carezzare in futuro non ho ancora l'idea giusta beh questo è il sogno certo dunque sì diciamo che non so quando come però Uber mi sta formando e spero di fare tesoro di questa esperienza quindi da dipendente a imprenditore da imprenditore a imprenditore grazie e buon lavoro grazie